Sarà un weekend da Bollino Rosso attese in città per il Ponte dell'Immacolata migliaia di persone, oltre 200 i Pullman che dovrebbero arrivare ad Arezzo. Il Comune ha così deciso di cambiare in alcune zone la viabilità chiudendo al traffico la città murata. Il centro storico, la città murata, sarà chiusa ai turisti, sarà chiusa a chi abita al di fuori delle mura, sarà consentito l'accesso ovviamente ai residenti, a chi dovrà recarsi presso le strutture ricettive, a chi dovrà fare rifornimenti alle attività commerciali, però a tutti gli altri sarà consentito di parcheggiare un po' fuori. Quindi nei parcheggi di struttura, al baldaccio, all'interno del quale sarà aperto anche il secondo piano, quindi avremo la disponibilità anche degli ulteriori 500 posti al mecenate e in più è stato messo in piedi un servizio di navetta gratuito dal centro affari fino al centro città. Quindi ogni 15 minuti chi arriverà da fuori Arezzo potrà parcheggiare nel parcheggio del centro affari, prendere una navetta, essere scaricato in piazza Guido Monaco e rientrare a suo comodo quando vorrà fino alle 20 al parcheggio del centro affari che ci è stato aperto dal presidente Boldi. Tre gli ingressi principali in città, il centro storico sarà chiuso dalle 15.30 alle 20 di sabato e dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20 di domenica. I tre varchi principali sono via Petrarca e via Fraguittone dove ci sarà la deviazione col percorso consentito da via Portabuia percorrendo via Garibaldi per poi riuscire in città. L'altro percorso consentito sarà quello di via Fraguittone, via Spinello e via Guadagnoli. L'altro varco importante è quello di Piazza Repubblica con piazza Guido Monaco e il successivo delle deviazioni in piazza Guido Monaco per la deviazione in via Petrarca.